Buongiorno a tutti, io sono Giovanni Grisotti e sono il coordinatore dell'Associazione Italiana della Prevenzione Primaria, l'associazione che da oltre 20 anni si occupa di studiare lo stile di vita sano e come poterlo praticare nella vita di tutti i giorni. Dicevamo perché serve la prevenzione primaria, che cos'è la prevenzione primaria? Prevenzione è un'azione che viene prima, che viene prima di che cosa? Prima di un problema di salute. Oggi anche se le tecnologie mediche, i farmaci sono sempre più importanti, sono sempre più numerosi questi farmaci e nello stesso tempo gli ospedali sono sempre più pieni di persone, sempre più pieni di persone. Quindi il concetto fondamentale che manca di più oggi è quello di prevenire, di curare lo stile di vita invece che curare le malattie quando oramai ci sono. Come possiamo fare questo? Ippocrate si concentrò su cinque pilastri fondamentali, sono cinque pilastri della salute, come sapevano gli antichi maestri, il segreto nascosto degli antichi maestri. Ossigenare bene il corpo, idratarlo bene, alimentarlo bene, tenerlo in movimento e curare la parte emotiva, mentale e spirituale. Questi cinque pilastri sorreggono tutta la nostra salute in maniera forte. Quindi come Associazione Italiana della Prevenzione Primaria, che da vent'anni si occupa con l'ausilio e l'apporto di grandi maestre della salute, sia dal punto di vista medico, dal mondo medico, sia dal mondo della medicina naturale, del benessere naturale, ha avuto grandi, grandi consigli e apporto di conoscenze che noi desideriamo condividere con tutti voi che vorrete seguirci nel percorso meraviglioso di imparare come si può usare lo stile di vita quotidiano per fare prevenzione primaria per il bene nostro, della nostra famiglia e di chi vogliamo bene. Vi incoraggio a continuare a seguirci sul sito www.prevenzioneprimaria e rimanere aggiornati per imparare insieme lo stile di vita sano e la prevenzione primaria. Arrivederci a tutti da Giovanni Grisotti.